Ciao a tutti, sono Antonio, mi trovo alla fine della Great Ocean Road, in un ristorante che si chiama Port Campable Hotel, un ristorante barra bar, barra accommodation. All'interno potete trovare una sala molto carina e stile country con un camino, il personale è molto cordiale e divertente, vi è una sala bar dove potete servire al banco o ai tavoli, c'è un biliardo che è un stile un po' differente da quello italiano, non ho ben capito ancora le regole, ma vi invito a provarlo, è di fronte al mare, insomma un bel posto dove passare una serata, perché non è anche più.